Hello guys, benvenuti in questo nuovo video con una deck profile dedicata al formato Edison come vi dicevo nonostante il video riguardo i problemi del formato Edison ripeto non ho detto che smetta di portarlo sul canale non smetto di giocarci perché di base mi diverte giocarlo con la committiva ma a caso che non sappiate di cosa stia parlando andate a vedere il video relativo appunto ai problemi del formato Edison oggi vi posto una decklist un po' spicy che stranamente non è drago incredibile però almeno ne abbiamo un altro bel drago baffuto e per la precisione come potete vedere dal titolo è Light's World Flamwell perché penso siano due archetipi consideriamoli così che possono funzionare benissimo anche per il funzionamento e l'effetto di una carta che è rekindling che è rotta in... prima di continuare due cosine come i gd vi ricordo di iscrivervi al canale qualora dovesse piacervi contenuti retroformat come appunto Edison, Tenguplant, Hutt e quant'altro o anche unboxing di prodotti vintage del gioco come farò Nick Guardian ma anche della serie GX o 5Ds quindi Star Strike Blast anche collezioni leggendarie iscrivervi quindi al canale lasciare un mi piace e un commento dato che contribuirà notevolmente al mio lavoro seconda cosa invece se notate le bustine diverse è perché mi rompevo proprio le palle di cambiare bustine alle carte è una profile quindi va benissimo così ma soprattutto perché se non imbroglio non vinco scherzi a parte diciamo di continuare con... continuare devo ancora iniziare la profile, la checklist quindi abbiamo due beige di grossi grossi ultimate giapponesi a proposito se volete carte ultimate giapponesi o carte OCG in generale vi consiglio di dare un'occhiata al mio store qui sotto in descrizione o caso che siano interessati a prodotti sealed coreani affidarvi al mio sponsor ossia Jack Store dove potete ottenere il codice sconto tramite appunto il codice che sta qui sotto in descrizione che vabbè è il mio nick del canale ma qualora dovessi interessarvi sta lì o se avete un prodotto nello specifico chiedetemelo appunto su Discord poi abbiamo i tre cagnolini assieme a tre fiorri potrei un po' definirli perché sì sono di lupi con i muscoli perché dire no poi gioco Mono Laila che io ho una carta che tendenzialmente tendo a portare sempre a due in Lysworn ma per slot mancanti dato che gioco più di... oltre Lysworn gioco appunto i Flanwell devo portarla per forza a uno quindi abbiamo il Mono per di Lumine il Garroth il Jain e l'Eren questo per quanto riguarda il reparto Lysworn che ovviamente è accompagnato da i due onesti poi continuando abbiamo il reparto Flanwell che vi dicevo che è composto da tre Fire Dog e tre Magi Flanwell e questi qui ero tentato di portarli a due ma non mi son trovato per niente bene giocandoli a due magari ritesterò un'altra volta a tre tre mi son trovato benissimo anche perché diciamo livelli quattro non ne abbiamo abbastanza quindi magari che ne so ci capita il Wolf che riusciamo a millarlo possiamo fare i quattro e quattro e otto quindi diciamo che questo mazzo qui si incentra tanto sui sincro livello otto e poi ve ne accorgerete per l'appunto dall'extra deck è anche utile che questi siano al cimitero motivo per cui ho creato questa deck list e poi vabbè gioco la carta la truppa della carta scusate lo zombieontore necrogarna il gorge e alla fine la carta che secondo me è troppo troppo forte in sto formato che è il summoner monk che in questo mazzo sta benissimo dato che i livelli 4 ne abbiamo in abbondanza e soprattutto potremo fare anche come target il mago flamble quindi spararci un bel sincro livello otto magari i cannoni li evitiamo il reparto magie è abbastanza corposo come potete vedere gioco tre ricariche solari più ovviamente la brigata ed ecco la carta OP del mazzo che è Rekindling questa carta non c'ha proprio senso dato che non targhetta è rotta cioè sarebbe la soul charge senza costo in Edison dedicata ai flamble troppo 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 forte possiamo fare praticamente otticappare easy con sta carta milliamo praticamente se milliamo flamble ci fa ci fa piacere dato che con questa ce li restiamo rotta carta decisamente rotta poi gioco 2 mostro reincarnato per recuperarci insomma qualsiasi cosa ci interessi in particolare il nostro drago baffuto ma quanto sei bello tu ultimate carta su cui non mi esprimo ulteriormente se volete andate a vedere il video che vi accennavo inizio video il mind control dato che giochiamo un elevato numero di tunnel è forte poi soprattutto può essere anche forte contro un'eventuale settata che sia soprattutto il rico che ci può fare un enorme piacere dato che milliamo roba e spacchiamo una quindi why not poi gioco una heavy storm una burial e infine questa per cagare il cazzo ancora di più dato che abbiamo un mazzo abbastanza aggro dobbiamo far spazio un po' al gd o quantomeno ai nostri sincro questa secondo me è l'opzione migliore non gioco il tifone di main per questione di slot a meno che non vogliate giocare a 42 carte che ripeto i mazzi come l'icehorn secondo me vanno anche bene la cosa che mi dispiace un po' è che abbiamo monolaila si stavo dicendo bene quindi un po' potrebbe cozzare però secondo me va bene così l'impostazione poi testerò diversamente però vabbè andiamo all'extra deck l'extra deck abbiamo il chimera deck il katastor mette a fuoco grazie l'arsenale il mago delle tempeste che possiamo permetterci di giocarlo bryonak il goyo arcanite troppo forte anche lui il black rose e poi abbiamo una caterba di sincro livello 8 quindi abbiamo sia l'arcidemone il colossal fighter doppio drago polvere di stelle doppio torruler archfiend e poi un worm allora riguardo questa impostazione come vi dicevo prima il mazzo fa sincro livello 8 un po' a spam il suo punto forte se non vi piacciono diciamo le doppie copie di di loro cioè io tendenzialmente tendo a giocare queste in doppia copia perché sono troppo forti la carta che potrebbe non piacervi magari è questa o il worm e vi consiglio nel caso di giocare il darkened dragon dato che obiettivamente possiamo sfruttare anche cobrain o con mind il kaios avversario ed edison sappiamo benissimo che è pieno zeppo e boh quindi queste due caso che non abbiate che ne so il mago delle tempeste o questo lo dovete per forza procurare comunque caso che non abbiate magari questo o non vi piacciono le harmony arm vi consiglio quantomeno di giocare il darkened dragon praticamente questi qua non li cambierei troppo troppo forti soprattutto lui e il kagakatsen per eccellenza infine il side deck abbiamo il doppio cyber drago il doppio corvo il tifone che vi dicevo assieme ai twister questo per togliervi carte come light imprisoning mirror o qualsiasi cosa e questo è anche un punto forte scusate se cambio discorso di questo mazzo dato che non si incentra solo sui light mettiamola così quindi potrebbe essere bello bello forte poi dato che monarca ci rompe i coglioni ho deciso di mettere tre maschere della restrizione e obiettivamente non giochiamo troppi tributi anzi mi pare solo una celestia poi doppio muro di ferro imperiale che onestamente vorrei portare a tre ma non ce l'avevo quindi dato che non avevo la terza ho detto quale altra carta potrei mettere al posto della terza ma ovviamente la dust cioè le carte forti che fai non le giochi quindi ho detto quantomeno tu stai di side questo ripeto ragazzi caso che non vi piaccia una carta di main o che ne so qualcuna in più vogliate giocare a 40 precise volete mettere questa eccola qui giocate sta cazzo di carta comunque questa e poi due royal decree quindi questa era la deck di stracazzoli di quest'oggi ho voluto portare Edison ripeto per rassicurarvi sul fatto che continuerò a portarlo come tipo di contenuto e format mi sto organizzando per il prossimo torno online quindi abbiate pazienza e a proposito di questo caso che siate interessati seguitemi sui miei social unitevi al mio server discord dove praticamente potete entrare direttamente anche in contatto sia con me ma soprattutto anche con il resto della community quindi prossimo video probabilmente Tenguplant non lo so vediamo un pochettino come gira la situazione e come gira il tempo libero e nel frattempo io vi ringrazio come al solito per aver guardato il video fino a questo punto ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale lasciare un piaccio un commento e arrivederci e al prossimo video da bravo retrogrado vorrei portare anche qualche unboxing ma vediamo un po' come evolve la situazione see you next time we